Ciao, sono Bernardo, sono uno dei ragazzi che frequentiamo la chiesa, che suoniamo le campane e le campane le suoniamo per dare ritmo alla giornata e vengono suonate nel periodo di festa come festività padronali e come il Natale e la Pasqua. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti